Ciao ragazzi, quanti di voi vogliono provare Arch ma ha il processo di installazione, è tutto da riga di comando, è un pizzone, devo fare tutto a mano, è una rottura di scatole? Ok, è un punto. E per questa ragione ci sono una serie di derivate di Arch, come già sappiamo, che ne semplificano l'installazione, eccetera, eccetera. Abbiamo visto nella recensione precedente, magari Mangiaro, che è un progetto italiano, fra l'altro Mangiaro Linux si basa su Arch e gli aggiornamenti arrivano quasi freschi come su Arch, con pochi giorni di ritardo. Undergoss è un'altra di queste derivate di Arch, fatta con una scuola di pensiero leggermente diversa, andiamo a vedere, nel senso che si avvicina di più ad Arch e molti lo hanno definito semplicemente un installer per Arch. Ok, allora è vero che usa dei repository di Arch, però usa anche dei repository di Huntergoss, quindi non è completamente soltanto un installer di Arch. Però è anche vero che una volta installata alla fine vi trovate un sistema basato su Arch, più vicino possibile ad Arch, puro, che funziona molto bene e l'installer è la vera particolarità. Perché una volta installato Arch lo conoscete, è fantastico, e non ci sono più problemi. La fase di installazione è la parte più difficile e questo è quello di cui Huntergoss si prende cura. Se adesso vediamo un attimino l'installer, qui vi fa scegliere la lingua, è molto intuitivo e molto semplice, vi permette di saltare una serie di cose. Continuiamo a scegliere il locale, lingua e tutto quello che è preliminare, timezone, layout tastiera. Ok, prima cosa che mi è piaciuta molto, mentre con ad esempio Mangiaro scaricavamo una versione KDE piuttosto che una versione GNOME, poi si installava ed era quello, con Huntergoss si scarica una LiveCD oppure una Minimal Live, che è praticamente soltanto l'installer, però l'installer vi fa scegliere come e che cosa installare con un certo livello di precisione. Ad esempio qui si può facilmente, con un clic, decidere se installare soltanto l'ambiente base, senza appunto nessun desktop environment da riga di comando, Cinnamon, piuttosto che l'ambiente grafico Deepin, che è fantastico, favoloso, Gnome, KDE, Mate, Openbox, XFCE, questo è come preinstallati. Poi è chiaro che una volta installato, come qualsiasi altro distro, potete installarvi tutti i desktop environment che volete, eccetera, eccetera, però ho apprezzato molto il fatto che un solo LiveCD vi permette di installare a scelta il vostro desktop environment. Questo, secondo me, è una cosa che dovrebbero fare molte altre distro. Altra cosa, qui possiamo decidere quali pacchetti software installare, sempre i macro gruppi, come vedete. Ad esempio ho i pacchetti di accessibilità, il Chromium Browser, Flash, il kernel in versione LTS, sì, magari voglio il kernel LTS, LibreOffice, servizio SSH, PlayOnLinux, il supporto per i dispositivi Bluetooth. Qui, se volete, chiaramente ve lo consiglio perché Arch ha poco significato senza i repository AUR e quindi abbigliettiamo anche già da qui l'Arch User Repository che ci fornisce un parco software ancora più esteso, cosa che se avessimo fatto un'installazione classica tradizionale di Arch Linux invece avremmo dovuto fare manualmente e era un pochino una sbatta. Quindi, la cosa interessante è che possiamo, dopo aver accettato tutti i disclaimer della situazione, preconfigurare la nostra installazione e trovarci con un sistema operativo pronto e funzionante out of the box. Poi possiamo anche scegliere, oppure lasciare all'installer, la scelta del miglior repository. E poi qui si viene allo schema di partizionamento e ok, in questo caso sono in macchina virtuale, chiaramente faccio, cancella tutto il disco e installa Huntergos, però comunque c'erano anche le possibilità. Io faccio sempre una cosa, pre-partiziono il mio disco solitamente, per esempio con Gparted, Parted e quant'altro. Quando arrivo sull'installer assegno semplicemente le partizioni che ho già creato e faccio installare lì sopra. Perché non mi piace molto come molti installer gestiscono le partizioni quando vanno a partizionare. Sembra che a volte non abbiamo il controllo su quello che sta succedendo e non si sa mai che io intendo una cosa, lui ne intende un'altra e mi va a segare partizioni. C'è più che segare partizioni che mi va a installare bootloader dove non voglio, che mi faccia altre cazzate. E qui, a proposito di bootloader, abbiamo la possibilità di scegliere il disco su cui installare e la possibilità di scegliere l'installazione del bootloader, sempre su questo disco in questo caso, ma avremmo potuto fare anche diversamente se ci fossero state altri dischi, altre unità. E poi, vabbè, qui non c'è la crittografia, quindi questi campi sono oscurati, perché abbiamo selezionato di non installare con la crittografia, però potevamo crittografare il disco. E anche questo è interessante perché è molto easy, bastava spuntare una voce. E voilà. Uno, due, tre, quattro. Ok, perfetto, pensa tutto a lui. Sei veramente sicuro vuoi continuare? Sì. E qui sta già cominciando, presumo, a installare i pacchetti. Mentre ci fa, ci dà tutto il tempo. Tipo, beh, questo l'abbiamo già visto, penso, sull'installer di Ubuntu e altri. La possibilità, adesso non vorrei confondermi, ma di inserire nome utente, password, eccetera, eccetera. Tipo, hunter, ghost, username, password. Oh, indovinate un attimo, la password è morro, perché questo è una live cd di prova. Come vedete era già arrivato da qualche altra parte. Sta scaricando tutti i pacchetti necessari. Così l'installazione di una Arch può essere resa semplice a tal punto di installare qualsiasi altra distribuzione e trovarsi una distro che funziona out of the box. Un'ultima considerazione che voglio fare su Arch e sulle sue derivate è la seguente. Su Arch il problema più grande è che può rompersi qualcosa se non aggiornate da tempo e poi lanciate un aggiornamento. Metti che, per esempio, per più di una settimana, magari un mese, tac, un mese che non lo usi o che non lo aggiorni più che altro. Decidi di fare gli aggiornamenti, ti scarica giù un giga di aggiornamenti, ok, tutto molto bello, e finisce, sembra tutto ok. Poi magari riavvio e scopro che in realtà non parte niente. Scopro che qualcosa ha rotto il sistema e non arrivo neanche più alla schermata di login. Questa cosa è sempre stata vera su Arch, ma in realtà ho provato personalmente che su Mangiaro il problema è frequentissimo. Nel senso che talvolta basta anche meno di un mese e poi faccio un aggiornamento e si rompe quasi automaticamente il sistema. Va proprio tenuto aggiornato quasi di settimana in settimana. HunterGhost è soggetto allo stesso problema, perché mi si è rotto anche HunterGhost non avendolo aggiornato per lungo tempo, anche se sembra essere leggermente più robusto, ma, sorpresa sorpresa, l'unica distro che non mi si è mai rotta a discapito di un aggiornamento dopo lungo tempo è proprio Arch. Nel senso che Arch l'ho lasciata spenta per un mese talvolta, l'ho accesa, ho aggiornato, tutto liscio, non mi si è mai rotta. Mangiaro e un po' meno comunque HunterGhost subiscono una piccola latenza dall'upstream con gli aggiornamenti e probabilmente questo è uno dei fattori. Non so bene per quale ragione queste distro derivate da Arch tendono a rompersi più frequentemente di Arch stessa. Quindi siate comunque al corrente che quando provate una Arch, ok, ma dovete aggiornarla costantemente, altrimenti rischiate che non parta più e doviate fare rollback di aggiornamenti. Certo, comunque è un'ottima occasione per imparare. L'installazione completa ed eccoci qua al primo boot, vediamo come si comporta. Facciamo il login. Ah già, sì, la password era morro. Ed eccoci qua con il nostro D-Pin, che è sempre più avanzato, sta raggiungendo livelli di usabilità decenti. Ancora è acerbo, puoi magari fare un approfondimento, però comincia a essere interessante. Tra l'altro vi faccio anche notare una cosa, da un po' di tempo a questa parte c'è anche la possibilità di mettere, anziché la modalità Fashion che a me fa schifo, la modalità Efficient, che invece mi sembra veramente molto efficient, nel senso che è proprio una barra più standard, più classica, ma finalmente è utilizzabile, quindi vediamo l'orario, vediamo altre cose come i controlli su volume, altre robe del genere. Finalmente a portata di mano. Hanno anche ridisegnato il System Monitor, l'hanno reso molto stiloso. Insomma, ci sono tante cose da controllare, è veramente carino. In definitiva vi consiglio assolutamente di provare questa distribuzione e farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao ragazzi!